buongiorno ragazzi allora mi vedete sì ok allora io ho cominciato a montarmi led della vetrina abbiamo già cominciato attaccarne un pezzo come vedete qua abbiamo la i led allora dobbiamo fare tutto il giro abbiamo già messo il punto dove andremo a collocare lo spinotto questo andrà giù e non si vedrà ok perfetto allora vediamo un po ok perfetto man mano togliamo la striscia bioadesiva mettiamo abbiamo aspettato che l'olio nella vetrina asciugasse bene bene l'abbiamo pulita se no non attaccavano avrei dovuto mettere l'attac sotto ma sarebbe stato un lavoro di merda invece così guardate come attacca bene facciamo tutto in giro stiamo a mezzo dito dalla vetrina per far tutto il giro piano piano facciamo tutto il giro ragazzi portate pazienza se non riuscite a vedere bene bene quello che sto facendo ma sto semplicemente attaccando la striscia led tutto intorno poi allora la proviamo proviamo abbassare e provare quanto pare attacca molto bene e poi ragazzi l'abbiamo finita poi facciamo poi il video di presentazione manca solo più di riempirla e adesso finisco di mettere i led e poi vi faccio vedere una chicca per me è una chicca per voi magari è una boiata per me è una chicca allora allora scusatemi scusatemi allora adesso vi giro e vi metto di qua scusatemi la vista del mobiletto della mia gatta ve ne farete una ragione quello è l'angolo divertimento del gatto con il gatto Allora 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 Ragazzi ci siamo Allora 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 Piazzata Perfetto ragazzi I led A mio avviso Sono perfetti Adesso Prendo un attimo Il telecomando Statevene un secondo lì Ah perché non mi sono fatto mancare niente Abbiamo il telecomandino Allora Proviamo un po' Se non attacchiamo la spina Allora Allora Proviamo eh E beh E beh Signori miei Io Voi In questo momento Non state vedendo Ancora bene Ma io Veramente Sono stupefatto Stupefatto Allora Allora Faccio due prove Poi vi faccio vedere Anche a voi Eh Ella 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 Ma volevo soltanto E la peppa Puoi aumentare Diminuire Ho fatto Un acquisto Azzeccato Allora Ragazzi Io spengo Così Ci allontaniamo Allora Prendo solo una cosa Ragazzi Vi faccio vedere Per questo Ci sono eh Ragazzi Allora Voi adesso Vedete il mio Riflesso Ma io Adesso Vi faccio vedere Una cosuccia Adesso Ho tolto la televisione Così sono riuscito A lavorare bene Allora Vediamo un attimo Come Perfetto Ragazzi Allora Mettiamola al massimo Cioè Io non so voi Ditemi quello che volete Ma Cioè Per me È una figata Possiamo anche Cambiare la modalità Vedete Si accende Si spegne Fa così Possiamo Possiamo Metterla al minimo Dagli il 20% 30% 60% 80% E 100% Possiamo Programmarla Ragazzi Io Sono super felice Devo solo dare Una pulita A questi vetri Che fanno un po' schifo Ma Ragazzi La chicca Ve la faccio Vedere subito Eccola qua La mia chicca Eccola qua La mia chicca Spegniamo La luce Allora Ebbè Io non so voi Ma A me piace Veramente Tanto E adesso Vi ho fatto Vedere Questo video Qua Domani mattina Vi faccio Vedere Il video Presentazione Che sarà Al bacio Ragazzi Buona serata E buonanotte